Il Milan per rispondere a Napoli e Inter, il Bologna per regalare un sorriso a Mijailovic, di nuovo alle prese con la malattia, ci sono storie e obiettivi diversi che si intrecciano nel Monday Night della 31esima giornata di Serie A Team. Crima da brividi con oltre 70.000 spettatori a spingere la squadra di Pioli alla sua centesima con i rossoneri in campionato. Leao si è spostato da questa parte, rientra sinistro che prende il corpo di Icky ma non è finita, Medel, confusione, Leao! Calciaforte ma sopra la traversa. Svanberg, seguiamo intanto Barro, chiude l'1-2, Svanberg offre ad Arnautovic la finta, poi piazzato di Ebischer, la tiene Mignan. Arnautovic si sbarazza del ritorno del francese, Barro, prende la mira da fuori, Mignan, paratona sulla conclusione del 99, doppio gesto tecnico di altissimo livello. Teo Hernandez butta dentro verso Giroud e riesce a prenderla, Skorupski però la inchioda sul prato. Braham Diaz accelera, frena un paio di volte, rischia di incartarsi, Tonali, cross dentro verso Giroud, Skorupski! Super parata, poi arriva Leao! E il pallone termina sul fondo, la migliore occasione del Milan al tramonto del primo tempo. Leao! Ancora il portoghese dentro, Braham Diaz, nuovamente Leao va a piazzarla, Skorupski! Con i piedi! Leao! C'è spazio per Calabria che incrocia! Ed è andato a centimetri dal vantaggio il Milan! Benasser! Ancora Braham Diaz, una finta, una sterzata. Poi da fuori cerca il piazzato, velenoso che rimbalza davanti a Skorupski, Ismael Benasser. Teo butta dentro, colpo di testa da parte di Rebic! Ci mette il manone Skorupski e allunga sopra la traversa. 0-0 a San Siro, il Bologna rallenta il Milan, Rossoneri sempre primi ma adesso ha più uno sul Napoli e ha più quattro sull'Inter. Grazie!